Io penso che per sostenibilità è un po' una questione di cultura, cultura di farsi accettare ma anche la cultura dall'altra parte di accettarlo, perché tante volte sono due mondi che parlano una lingua completamente diversa. Quando si parla di sostenibilità di un'impresa cercare di limitarla esclusivamente alla sostenibilità ambientale secondo me con quello che abbiamo di fronte è un po' minimizzare il discorso della sostenibilità. Prima di tutto l'impresa deve essere economicamente sostenibile perché creando valore crea occupazione ed è socialmente utile all'interno di un territorio in cui vive e in cui presta naturalmente il suo ruolo. Deve essere sostenibile socialmente in quanto l'impresa, in primis l'imprenditore, deve essere socialmente responsabile di quello che fa e di quello che deve essere poi disponibile a riscontrare con il mondo esterno. Il mondo esterno parla soprattutto degli stock order, quelli che stanno al di fuori dell'ambiente del lavoro, al di fuori del perimetro aziendale, al di fuori tante volte di quelli che non ti accettano o comunque non vieni accettato come diciamo così mondo imprenditoriale. E credo che in Italia di questi casi ce ne siano tantissimi. E poi c'è naturalmente il discorso della sostenibilità ambientale. Ovvio il settore siderurgico è quello che a livello ambientale forse è quello che vive più maggiormente le sue criticità. Però ritengo che da questo punto di vista la siderurgia europea e italiana abbia fatto veramente passi da giganti. Il buon Tosini prima cito alcune descrizioni e alcuni passaggi che ha fatto. Parlava di risparmio delle materie prime, energia. Noi siamo un settore a forte impatto di consumo energetico. E naturalmente oggi per fare energia, indipendentemente da tutte le nuove fonti rinnovabili, però per dare energia al settore siderurgico creiamo alcune volte anche dei problemi. Perché comunque fare energia vuol dire anche comunque, non dico inquinare, ma creare qualche problema all'interno. Riduzione delle emissioni. Ovviamente noi abbiamo delle normative molto stringenti. Abbiamo aderito al protocollo di Chiotto. Oggi ci sono delle tecnologie in ambito sulle emissioni molto molto all'avanguardia. Io ritengo che da questo punto di vista non bisogna solo limitarsi a fare quello che dice la normativa, ma se c'è la possibilità di fare qualcosa di più, oggi un'impresa deve fare anche qualcosa di più. Poi si parlava del riciclo delle materie, degli scatti di processo, anche qui è fortissimo. Il famoso economia circolante. Controllo della qualità, gestione di processi, la digibilitazione dell'impresa, che anche questo è molto importante, anche in funzione di quello che sarà il progetto 4.0. E poi la formazione, le competenze. Ecco, io l'ho messa per ultimo la formazione, ma per me viene davanti, perché secondo me l'uomo poi alla fine è artifice di quello che fa. Per cui avere delle competenze in cui credere un po' in questa cultura di impresa, della sostenibilità, fa bene non solo all'impresa, ma anche alla formazione del personale all'interno dell'impresa. Cioè oggi avere del personale competente che si sente proprio protagonista all'interno dell'impresa per migliorare sempre più quelli che sono i processi produttivi, ma anche quello che è un po' la reputazione dell'impresa che deve avere fuori, io credo che questo è un modo un po' per fare un po' impresa un po' più moderna. Ecco perché secondo me è una questione un po' anche di cultura. Grazie a tutti.